numero 5 il fossil ft w 6016 ha un design più moderno ma è ancora funzionale il suo touchscreen è di 40 mm ed è circondato da un cinturino in pelle grigia che puoi cambiarlo ogni volta che ne hai bisogno vale la pena ricordare che questo modello è sommergibile in acqua fino a una profondità di 50 metri quindi se sei un amante del nuoto puoi indossarlo senza problemi allo stesso modo incorpora google pay in modo che questo dispositivo sia valido per pagare i vostri acquisti se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 4 una delle caratteristiche del fossil neutra hybrid è che funziona come un orologio cioè con le batterie non dovrete mai caricarlo dovrete accorgervi solo quando la batteria si esaurisce per cambiarla dato che dura per un totale di 12 mesi infatti il suo aspetto è inizialmente quello di un orologio convenzionale ma è davvero uno smartwatch con diverse funzionalità tipiche di questi dispositivi in questo modo potete configurarlo per ricevere notifiche dalle app del vostro cellulare che vi interessano di più così come dai vostri contatti con una breve vibrazione sarete avvisati delle notizie più importanti per voi in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 3 il fossil garrett hr ha un design classico ma con una tecnologia moderna è un modello che come gli altri che abbiamo visto funziona con la tecnologia aware os by google quindi è compatibile sia con iphone che con android allo stesso tempo vale la pena notare che include una grande varietà di funzionalità e che il suo cinturino blu gli dà un tocco distinto che rende il suo aspetto esterno più attraente anche se se lo desideri puoi cambiarlo con un altro colore tra le opzioni offerte da questo smartwatch ci sono anche la possibilità di personalizzare il quadrante a proprio gusto così come i pulsanti che possono essere configurati come si desidera puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 uno degli aspetti più elaborati del fossil gen 5 è la sua batteria sia la ricarica che l'autonomia che possono essere combinate in diversi modi in soli 50 minuti il dispositivo è già carico all'80 per cento allo stesso tempo ci sono quattro modalità selezionabili che aumentano o diminuiscono la durata della batteria alcuni di essi sono per esempio la modalità giornaliera per utilizzare tutte le applicazioni e caricarlo ogni notte o la modalità personalizzata per regolarlo a proprio piacimento e ottenere una vita più lunga va anche notato che il sensore di frequenza cardiaca in questo modello consuma pochissima batteria e puoi controllare lo stato del tuo cuore ogni volta che vuoi se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 1 lo smartwatch fossil con il gen 5 o modello di quinta generazione si distingue per la sua funzione vivavoce grazie a questo sarete in grado di ascoltare la musica mentre vi allenate o anche di sentire le risposte di google voice assistant così come rispondere alle chiamate collegate e ricevere notifiche sonore per quegli aspetti che avete precedentemente configurato basta puntarlo sul polso ed eseguire l'azione corrispondente allo stesso tempo incorpora il tracciamento dell'attività e il monitoraggio della frequenza cardiaca così come il gps in modo da poter tenere traccia di dove stai andando e quanti chilometri hai percorso trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione ciao ciao ciao